E parto sto Brock ragazzi Slaking Oh Secondo me tocca provare il gettone raga Io ho tanti il gettone considerato Se lo esco dall'Hub e slaking Instagen qua e il pokemon migliore Che dite? Si o no capi? Si o no? Si o no si o no si o no Secondo me è obbligatorio qui Cioè è obbligatorio Io lo prenderei il gettone Merda Cioè è 29 al 5 zio Solo che è un bidone Cioè non ha mosse Però Cioè apparee che fa autoflab forse Autoflab Quindi gettone usato Il pokemon è quel che è però Ma no 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 Dai Bro Porco dio che tega che ti perdi Ma va al 9 Ma perché ha spaccato un Lapras comunque Quindi Ah sto pokemon qui è goloso bro Trastiamo quindi raga Diretti? Ok Per forza Secondo me Sì vabbè però Porco dio Cioè Maturo capo Deve imparare mossa al 13 eh Qui Allora vediamo un attimo L'ultima che hanno rilasciato Raga sto usando Minchia buona Ah in special attack Tira dei più infinito Solo che non ha mosse bro Il problema di sto pokemon per ora È che non ha mosse C'ha thunder che è un po' una merda Come mossa Servirebbe una trower O roba del genere Ah sil No bro 50 a cura Si Ok Che palle raga però Porco dio Cioè Ah Se non altro Stiamo giga livellati eh Per la roba che abbiamo beccato contro Perché abbiamo beccato Un chiogre Un Non mi ricordo Comunque abbiamo beccato roba sgrava contro Quindi Siamo ben livellati Se non altro Vediamo Maschera Is back a thunder Vai Pupiter Oh ma è incredibile sta roba Buono Buono Tu dove abbiamo beccato contro Prima minchia a 16 Qua è tanta roba zio eh 16 qua è veramente assai Ma questo l'abbiamo già fatto Pokemon singolo Allora Dusclop si becca thunder Missene un altro Magari Oh ma che teghe Prendiamo anche speciali Bro Non ha senso Cioè Abbiamo comunque 40 di special Mi fanno delle teghe Anche a livello di Difesa speciale Che boh Servirebbe Mossa al 19 E Bella camicia Columbia Sì No un paio di queste Devo comprare anche un'altra Ah lunedì Probabilmente faremo Codenames Con Tatillo Ma stiamo scherzando Mamma mia Ma come fa a farmi Quel danno Orsidio Porco Faremo Codenames con Tatillo Spawn ed Elmo Col colonnello Mario Tatillo Spawn ed Elmo Ci spareremo Un codenames Una volta a settimana Probabilmente Lunedì Ah lunedì Io gioco il versus Con Nanna Anche la sera Quindi ci sarà pure Live extra Già ve lo dico Seguite su Instagram Per favore Per essere sempre Aggiornati su ste robe Comunque lunedì Ci sarà il Miss un'altra volta Dio porco Non lo so Dai però ragazzi Sto slacking Ragazzi Un mezzo bidone Non ha mossa Poca difesa Color change Cioè Bello un attacco speciale Ok ma Finisce lì No hanno fatto Dei cambiamenti Un po' In questa versione Di rosso Allora Thunder Già male qua Sei danni a casa Completamente Prenzi plant Si gode Ok Allora Eccoci Buono Buono Io per forza Fare frenzi Per forza Il discorso Che Boh Allora Allora missero Quanti No missati Cioè ma Cosa ho visto Bro Io non so Cosa fare Thunder Forza Oh ma Che pal Merda Mirror Coat Che palle Sta roba Tutti i rough skin Qua Ah Era l'ultimo Brock Brock Facile Bro Brock Facile Brock Facile Mi sembrava Fosse il penultimo Clamp No table Merda Che merda Però Non abbiamo Mezza mossa Eh però Non è buono Sto pokemon Raga Non è buono Sto pokemon VIP senza Sub O ti tolgo Il VIP O devi O resabio Ti devo togliere Il VIP Questo è il discorso Oltretutto A dicembre Cominceremo Una sponsor Di un prodotto Gigafigo Ieri vi ho messo Le foto Nel gruppo Telegram Ma ti giuro Che sto Cioè sto Drogato Di sta roba È tutto ieri Che ho provato Robbe diverse Gusti diversi Eccetera Faremo la Come si dice La sponsor Di waterdrop Boh Io ragazzi Che fo qua Mi curo Tiro thunder Fa cagare Sto pokemon Più che altro Cioè Ogni attacco Che ci fanno Sono infiniti Danni presi Curarmi Secondo me Poco senso Morto Vabbè Per forza Tanto Eh ma mi curo Con cosa bro Se mi Se mi Con una fisica Tanto mi rimanda Vita rossa No no Ma overtime Cioè Non fa 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 Il tuo Discorso Si è Chiaro Però Per me È assurdo Che così Tante persone Capito Caschino In quel Tranello Diciamo Cioè È veramente Allucinante Il numero Di persone Che ci Cascano Poi Certo Il discorso In modo Razionale Come lo fai Tu hai Sicuramente Ragione Cioè Così è Bro È così Non è Come Cioè Non è Capito Come dire Argomentabile in altro modo È assolutamente così Il meccanismo che c'è dietro è quello Però è incredibile quanto Bello Quanta gente Capito Casca nella trappola Oggi si va a prendere policy Oh Tony Ti va di venire a fare un nome in codice Con me Spawn Ehm Fondigli noob Tatillo E Delmo Se ti va Perché lo stiamo organizzando Una prossima settimana Se mi vuoi iscrivervi su telegram E ti va di venire anche a fare te un'oretta Un'oretta e mezza di codenames Si fa Social Oh I si se Finally Non ha un brutto attacco Non è alto Ma non è neanche brutto Cattura facilitata Datemi il nome per questo Raga Spiri Gonzales Spiri Gonzales I must confess Yes Oh Final libro Matrix Matrix Ma se non entravi in questa ball qua Ci rimanevo male Allora Si prova Si prova Abbiamo solo bubble beam Si prova Se non lo che vuole è smettere di fumare L'ho anche ricondiviso su Instagram La storia appena era uscita Si si che ho visto Ma Flacanzio Merda Merda però Eh servirebbe Tailglobite a questo Tailglobite Non si va alla Lega Penta Penta Cullo Madonna Non gli fa nulla Ma porco Dio Però Il punto è che Fare oltraggio Mi locca C'è bro Ho un dubbio Ho un fortissimo dubbio Ho un incredibile dubbio Ho un gigantesco dubbio Però Il punto è che ora non dobbiamo morire Imparo anche bait E siamo sul pezzo Te lo dico Ho Wurple di merda Gli caccio oltraggio Zio cane Merda La tua Quanta è il glow Questo E Scusa Cioè ma come fa a resistere Bro Capora Eh magari almighty Non è che sei due paie di gufi Poi Parli Porco Dio Però Cos'è che ha fatto Madonna però Che palle Bro Sta roba Io faccio doppia tailglo Come fa a resistere Ma come fa a resistere Cioè boh Ma Dai però Porco Dio Ma tu stai scherzando Socio Dovrebbero bastare i passi No Esatto Ma c'è il trick Ma non serve Qua Lo so che c'è il trick Eravamo nettamente Tranquilli per andarci Corare Il glow Ma vaffanculo Porco Dio Mi ha bebiato LL kid Porca Madonna Ma adesso devo morire Da sto ritardato Mi nervosisco Porca Madonna Bet per Brock Capi Bella Matti Water Water Absorb Porco Dio Ok Ok Si vabbè bro Porca Madonna Però Merda che coglioni bro Porco Dio però Devo sperare che non abbia mosse Perché se mi tira Eh vaffanculo Eh godo però perché Ma come fa a essere più veloci di me Dai ragazzi Ho miso Maremma maiala C'è che parto sto Brock ragazzi Merda Veramente Cioè Stava per purlarla Robbery Ma quella brutta Sì ho per Tojo Madonna Santa Ancora si diminuita una volta Ho misato Tanta mosse Cioè Mamma mia I discorsi di sto monk Qualche fa fatica Non ci credo che ha fatto AIDS Cioè Cioè io veramente Che Pokémon sto beccando Cioè Kyogre Groudon Lapras Groudon Raikwaza Giraci Cioè Poi se ribatto va bene Però Poi mi becco la stecca Da quello che non shotto E Crepo I travel the world C'è una cosa che servirebbe a me bro Ma come cazzo fa a resistere bro Cioè Pazzesco Sto Pokémon diventa sempre più sontuoso Io te lo dico eh Sta diventando sempre più sontuoso sto Pokémon bro Era nato come meme sto Pokémon Ragazzi solo Bubble Beam e basta Senza chissà che stats Poi dimmi parla Tail Glow e Flamethrower Ho un dubbio Rick Ma vaffanculo Sendrew di merda Succhi a cazzi Classico Dai che sfiga bro Porco Dio però Eeeh Non era il fidanzato Quello Boh raga Non abbiamo ancora Con me crepiamo Ve lo dico Reschiamo di crepare Give Ok Raga io devo setappare penso qua Anche perché questo non lo tiro giù quindi Che sfiga Porco Dio però Cioè veramente che sfiga bro Eiz è quella che toglie l'exo Vai però Uscirò da qua Under leveled senza cure Ma se riesco eh Posto Posto Siamo morti Posto Vidone Non abbiamo No item No cure Paralisi Body slam Da metronomo Parrato E via Fanculo va Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti